Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi completamente online a causa delle emergenze in corso, il consigliere del Partito Democratico Francesco Brandi ha rassegnato le dimissioni. Una decisione presa, a suo dire, per dedicarsi completamente alla segretaria del partito. Al suo posto siederà Domenico Pinto, che con lui nel 2017 fu candidato in Città Democratica. Ho voluto con questo gesto, prima di tutto, fare spazio al mio collega e amico Domenico Pinto, che nella lista in cui ci siamo candidati entrambi, cioè Città Democratica, era il primo dei non eletti. Mi ha spinto la logica del segretario del Partito Democratico, più che la logica del consigliere o politico Francesco Brandi. Cioè, nel senso che credo che il ruolo di segretario di partito mi imponga anche di guardare alla squadra. Una decisione presa anche in vista dell'appuntamento del 2022. Il mio lavoro consiste nel portare il Partito Democratico all'interno della coalizione che leggerà il prossimo sindaco. Questo è all'interno della coalizione. Sappiamo tutti quanti che i tempi che corrono non sono tempi che possono permettere un sindaco, diciamo, di un unico partito, no? E chiaramente deve essere un sindaco sostenuto da una coalizione. Un parere mio personale è che sarebbe preferibile che questo sindaco non fosse un'espressione eccessivamente esposta politicamente né amministrativamente. Questo è il mio personale punto di vista, potrei anche sbagliarmi su questo. Non per nulla, perché dopo un sindaco così forte forse sarebbe bene che il centro-sinistra si riorganizzi senza primogeniture. Dell'esperienza da consigliere, Brandi rivendica con orgoglio due cose in particolare a cui il PD ha dato il suo contributo. La prima è il conferimento della cittadinanza simbolica ai minori stranieri. La seconda, invece, è stata il sottopasso sulla via di Santo Spirito, di cui Bitonto attende la realizzazione.